Com'è andata questa passeggiata? Bene, perché mi sono sentita al mio agio e bene. Mi sono sentito calmo, rilassato. Ho sentito i giubbotti che strisciavano e sembrava quando il vento fruscia sulle foglie. Poi, quando le macchine passavano sulla strada, sembrava di sentire il rumore di un fiumicello, di un torrente che passava. Cosa è cambiato dalla palestra da fuori? I rumori, i piedi. In palestra rimbombava tutto e invece quando siamo andati sotto il portico non rimbombava più. Dei suoni che abbiamo sentito mi è piaciuto di più il suono delle macchine che andavano sopra la strada bagnata. Cioè la palestra non era calmo, era tutto rimbombato e di fuori c'era la calma, cioè si sentiva la pioggia che andava contro le foglie del pino, dell'albero, le macchine che schiacciavano le pozzanghere. Dalla palestra alla strada è cambiato che nella palestra il suono era più forte e nella strada si sentiva più piano, di fuori. Cioè quando eravamo in palestra facevamo un silenzio assoluto, abbiamo fatto tipo un cerchio che noi camminavamo. Poi quando siamo andati fuori, quando le macchine passavano tipo si sentiva lo sciacquio che le macchine quando schiacciavano le pozzanghere, cioè si sentiva proprio le gocce che schiacciavano. In palestra si sentiva lo strisciare dei giubbotti, il passo da il cammino e delle altre cose. E poi invece di fuori si sentiva il rumore delle macchine, il rumore della pioggia, il rumore del vento e anche quello dell'acqua sopra l'asfalto perché quando le macchine ci passavano sopra sembrava un ruscello. E il rumore che mi piaceva di più era lo sfruscio dei giubbotti in palestra perché sembrava un torrente. Curiosa perché un rumore così non l'avevo mai sentito. Cambia il clima perché nella palestra fa più caldo e invece di fuori fa più freddo. Quando siamo, abbiamo aperto le porte. Così già improvvisamente a me mi è sembrato di entrare nell'inferno. Dentro mi sentivo un po' più coperta perché c'era un po' più caldo. Invece di fuori c'era più freddo. La pazienza è stata bella perché abbiamo incontrato dei rumori come le macchine, le campane. Le macchine sembravano un mare mosso e le campane che sembravano dei tamburelli che un uomo gli suonava. Perché ti piaceva di più il suono delle campane? Perché è un suono bello. Ho sentito dei rumori, le campane che suonavano, la papera, le macchine. Poi sembrava un rumore dell'aspirapolvere. Poi ho provato una sensazione bellissima perché non l'ho mai provata così e mi sono molto divertita. Ho sentito l'acqua che scorreva, mi sono sentita un po' rilassata, un po' intimidita. Perché non l'avevo mai sentito un po', è un po' di tempo che non sento mai di sentire l'acqua che scorreva. E quindi ho trovato un po' di timidezza. Io ho sentito il fruscio dell'acqua, dopo ho sentito le campane, poi le ocche e mi sono sentito tranquillo. Il vento che faceva come una frusta. Grazie. Grazie. Grazie.